Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo e benvenuti a questo match di campionato che vi racconterò col commento tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua Pier, prontissimo come sempre, le due squadre sono già in campo e attendono solo il fischio del direttore di gara, ancora pochi istanti e si parte! Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. 4-4-2 per loro oggi, evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole prestare il... respinge di pugno. Attenzione! Bravo il portiere a dire di no. Maher, Hendricks. Si avvicina all'area. Buono l'anticipo del difensore. Ha scelto il male minore concedendo il corner. Calcio d'angolo battuto... L'uscita del portiere di pugno. Lozzano. Chiude bene il triangolo. Buono il recupero, possono ricominciare. Il portiere con la punta delle dita, l'ha alzata sopra la traversa. Palla deviata, sarà corner per il Pesby. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Saccai. Buona triangolazione. Baragna metri verso l'area. Lozzano. Cerca l'appoggio al compagno. E il pallone se ne va via. Maher. Andre. Hendricks. Assù e Cotto. Occhio al suo movimento. Ecco il tiro. Tiro è respinto. Hendricks. Assù e Cotto. Tocco verticale interessante. Tocco verticale interessante. Ragna metri. Maher. 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 Hendricks. Tocco di ritorno. Buona rinquisizione qui. Ci sono metri a disposizione. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Hendricks. il portiere in presa sicuro. Il portiere in presa sicura. Bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. E' uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori ma stavolta è scattato in anticipo. Hendricks. Assù e Cotto. Si riprenderà con un fallo laterale. Può avanzare. Occhio al pallone filtrante. Prova in raso terra. Nessun problema sul cross. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Assù e Cotto. Isimamirin. Scharz. Puntuale qui il difensore nel recupero. Buon pallone filtrante. Occhio cerca l'area di rigore. Crossa verso il centro. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo almeno in questa occasione. Deve averla colpita male. Credo. Non si piega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e si è terminata largamente sul fondo. Passaggio intercettato. L'arbitro manda a tutti. C'è il segnale dell'arbitro. Comincia il secondo tempo. Buono il Deve vai. Fermo l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Lozano. Non c'è spazio per andare. Lo ferma ma non controlla. Pallone interessante. Non può trovare palla. Rocas. Ottima parata. E sarà calcio d'acqua. Pallone in mezzo. Manovra gestita male. Non riesce a fermare l'attaccante. Troppo più forte di lui in questa circostanza. Cerca il secondo palo. Nessun problema per il portiere. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Può metterla da lì. Non trattiene? Occhio alla possibilità. Palla nuovamente in possesso. Hendricks. Perfetto oggi nei passaggi. Palla riconsegnata agli avversari. Si avvicina all'area. Fermano la ballona avversaria. Punta la porta. E il pallone se ne va via. Assù è Cotto. Arriba una notizia ufficiale. Importante di mercato. Gundogan è stato ceduto al Barcellona. Dal Manchester City. Volevano un giocatore in quel ruolo. E sono riusciti a bruciare la concorrenza. Calcio ad angolo. Vediamo se riusciranno a sfruttarlo. Per mettere la freccia e passare a condurre. Sostituzione in arrivo. Occhio al pallone in mezzo. De Jong. E il difensore sulla linea. Salva. Al posto giusto nel momento giusto. Sakai. Stato. Occhio in mezzo. Può cercare il cross. Fanno raccolta senza problemi dal portiere. Occhio cerca l'area di rigore. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Senza problemi quel portiere. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Ci sono metri a disposizione. Hendricks. Lozzano. Sventa qui la minaccia. L'allenatore sceglie di abbassare la sua squadra. Gran palla in mezzo. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. De Jong. Hendricks. Occhio al suo movimento. Ha spazio per andare. Cerca il traversone. Attento qui il difensore che allontana. Baragna metri verso l'area. Ancora 600 secondi alla fine. De Jong. Suma dunque l'azione e l'attacco. Vediamo cosa decide l'arbitro. C'è aria di cambio. a metri per correre. Ha spazio per andare. La difesa la meglio e allontana il pallone. avanza. Prova a far partire il tiro. Non trattiene. Occhio alla possibilità. Palla nuovamente in possesso. Si avvicina all'area. Prova a andare. Si resta dunque sullo 0-0. Eh però ce la stanno mettendo tutta. Vogliono la vittoria. Sanno che non manca più molto ormai alla fine. e devono affrettare i tempi. Il tocco di testa. De Jong. Lozano. La traiettoria verso il centro. Ma non gran che è qui la girata di testa. Vuole essere buoni. L'impressione che l'abbia impattata con la parte alta della testa. Non con la fronte. Ne è uscita fuori. Una conclusione inguardabile. Lozano. C'è spazio per andare. De Jong. Portiere che salva il risultato. Hanno rischiato davvero grosso qui. Oggi il portiere non si è mai fatto trovare impreparato. Finisce il match con risultato di parità.